si sono partita la live si è partita è la fine è la fine è la fine ragazzi live su fortnite titolo bellissimo dai faccio una live lunghissima tipo di 6 ore sono contento per te non se ne inculerà nessuno scialla però faccio una live di 6 ore caro entra adesso fa ragionamento quanto hai? 80 minuti quanto? 80 minuti non è vero infatti lo sai 10 minuti ma vabbè allora io ne faccio ho No, 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 no. No, 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 no. C'è da te e sti cazzi. Ti stai a vedere la live, ma ti? No, perché dovrei? Se io voglio solo metterli di video. Infatti, facciamo television? Dai, che amare di me, ma avete fatto una supporta. Noi, scusa. Ma viene pure detta. Cosa? Cosa fa l'aggiornamento? Eh, ho capito. Eh, che dici che poi sei un'edificio? Cosa ha detto Mattia? Eh? Ah, ha detto Mattia. Raga, in un cici. Ah, c'è vola. Leo, se io quando faremo un combo non facciamo un movimento. No, perché io non... Ma mi batti, fra. Ma cosa? Ma perché vi sto con uno di uno con farina? No, me l'ha appena vinto con farina. No, me l'ha appena vinto con farina. Tu hai visto l'uno di uno contro Dattaro? No. Ah, ok. Meglio così. Vabbè, lei non credo che tu sia così scarso, dai. Eh, mi ha battuto 30 a 0. Ma cosa? Cioè, io penso che se adesso c'è vado o faccio schifo. Non è vero, ma ti desapevole culo. Eh, mi sono zitto, darò, sei un sataro di merda. Cioè, io se vanno col gioco faccio molto schifo. Ma è di livello estremi. No, infatti pu... No, che schifo la balestra, la odio. Dai, ti ho messo a pulire. Eh, primo fucile, ragazzi. Prima quando l'ho acquistato ero tipo potentissimo. Ero tipo sempre il primo, il secondo, quasi così. Mi è giunto la vecchiaia. Eh, poi... Ma l'estra, vabbè. Poi a un certo punto è arrivato un gioco che si chiamava Rainbow Seed e ha cambiato tutto. E balestra. Ero tipo, ma... Non credo che stia guardando nessuno da live, a parte che ti dico... Oh, vabbè, lui ci ha chiesto se andasse su... Abbiamo fatto questo favore? Abbiamo fatto questo favore. No, no, perché... Iscrizioni, Sotaro Games, sai che c'è il live? Un spettatore. Ariadcomi, non si avvia. Cosa, Federico? Sono io, sono io. Sì, sei te, Federico Lipira. No, quindi stai zitto. E adesso faccio talmente schifo che non so manco come si costruisce. Nooo. Non mi direi se... Vediamo poi l'Apocalypse Killer che sta... Malmerando i pavimenti? Perché è vero, perché si sa giudare. Voglio farvi notare che... Voi rompe il pavimento che non subisce. Vabbè, quello era fermo, ma gli lesi. La gravità e quindi non c'è la caduta concanata del... Leo, se la mettono, era fermo, non l'hai chiuso ma anche in testa. No, fra lo volevo via addosso. Eh sì. Eh sì, cosa? Mi c'è carico la teglia, però solo sul piccino non ci preoccupi di non arrivare. Che modalità di merda, scusate. Mamma mia che palle. Mi sta a rompercazzo. Non riesco a prenderla. Mi sembra sono reso conto. Oh dai par... Eh non riesco, bravo! Sì, vabbè, è comica questa cosa. Leo, dai cazzo! No, è comica questa cosa. Leo, se muori. Aspetta. È tutta una... Leo, che cazzo sei a fare? È tutta una tattica! Che stai a fare? Lo stai a fare olanda di giro, fammi sta a te. Che cazzo vuoi fare? Leo, 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 Leo. Che cazzo vuoi fare? No! Vabbè, dai, stavo giocando, bravo. Mi stavo tagliando. Ormai ero partito. Come sei morto, Leo? Dai, Leo. Vabbè, Leo, vabbè. Vabbè, fa niente. Bel giocatore. Bello spettatore. Federico ce la fa, quanti è? Io non vuoi di niente. No, ce la devo a te, farò ciò. Andiamo a taccheri, a crino. Fabio. Macri? Macri, fracilli. Un saluta da Macri ragazzi che è grandissimo. Benvenuti, l' Andate a cercarlo, Macri, punto... Non si può dire... www.macri, se vuoi dir... 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 pensi più la seconda eh non si dice dare scusi cari signori sono a tre giri ero dici una volta quindi quanto gli manca? 80 cc 80 cc mi manca si lo sapevo e se un bel coglione dicevi che ci mettevi due minuti fra una mezzoletta ma hai detto un'ora fra ti stavo trollando fra bel coglione tra l'inizio te lo coi lo trovo lo trovo lo trovo lo trovo 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 lì ignoto abbiamo due spettatori vediamo la chat aria è come bello federico lipira salve ciao il moderatore ma ascoltate sempre non l'ho capito senti ascoltiamo che tu sei una persona importante come tutti quelli che ci seguono ascoltate sempre sta parlando il dialetto romano brutto ignorante ah beh sfide che vuol dire ma ascoltate sempre no a te e a lei quanto ti manca 40 secondi viva la madonna eh no ho detto viva la madonna io ho sentito un po' oh sento qualcosa ah uh 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 porco disco nel senso che ti dico fate forza e te lo fate è ovvio che l'unico spettatore manco da ascoltare sono personale noi ci teniamo ad accontentare il pubblico caro se riesco a fare sto troll caro aiuto a vedere c'è cacca a vedere solo per te no scuffone Leo che cazzo stai a fare io che c**o che c**o 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 a fede con di riposta live vado da qualche amico so che al chino 4.1 vado a 4.3 mappure contribuisce con un punto di bui cd. salire spettatori minchia beggio amare diciamo 1 io mattia fezzerico è un quarto che penso quel quarto scriva devo sapere chi è non fa dio è un amico di roba nickname dica nickname caro federico ma fa la tua madre lascia l'ex albergo originale sarebbe talmente originale che hanno persino i vecchi rega comunque la terza live dove deve arrivare a 100 views ci siamo vicini per una domanda ricordi nobby di rumen il smock crack yes e per i bei o fa kia o fa kia amici occhio bionardo non c'è nessuno Sento puzza di cecchinata a breve Sento puzza di quel porco di disco Poi ci abbanno Leo io ci sono, se lei magari si muove Eh, se magari mi uccidono Eh, suicidati Mi stanno sparando ma non capisco da dove Sfira tra cecchini e squadra di giocatori singolo Wow, Leo si può entrare? Eh, mo' entra, me la fai finire Ha scritto Però mio fratello è andato in ciasse con Rob Rob l'ho entristo Vabbè Eh, va bene Ti ringraziamo per seguire Ma dai spavola in qualsiasi piattaforma Non grazie pare, basta che mi dì qualcuno No, no, non va al pacinotti Vedi di colore Non va al pacinotti, è rimasto qua dietro un anno fa Siamo nel 2018 Leo ti spavola Vuol dire, andava al pacinotti Andava Sì, comunque, sì No, aspetta dai, darò non fare la merda dai, ti prego Sto vedendo quanto sei forte a costruire E a sparare Stando con un'arma non carica Bravo Leo Mi dora la gara In teoria Leo dovrebbe sovrapprire tanto Da farmi finire il dolor di Mi ha appena colpito Ha colpito Oh Questa è rascolata Questa è rascolata, crede Sì, un culo di me V? V Ti vuoi solicitare, per favore Sì, perché è venuta a casa mia un anno fa Perché era amico di mio cedello Eh, vabbè, bello Ok, genera un altro Buonga, non è rascolata Buonga, non è rascolata Un attimo Allora, muo arrivo un attimo Un attimo Non è rascolata sopra Vi sentire su questo Quanto ti manchi, guardri? Mi mancano 12 minuti forse anche meno tutto ne ho sopravvivi ho smesso di guardare la live se non ti voglio non lo sopravvivi Leo muore per il tuo pubblico no 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 Leo non morire per Mattias così almeno facciamo un team importante tanto io non ce sto non faccio differenza però la mia è totalmente levata si può misurare proprio le dimensioni astrologiche planetare e ora cosa fai lo uccidillo sto finì a partito sto perdendo un cifro di tempo di questo non l'hai capito meno male tra parentesi Mattias eh si si quindi si buona è un buon amico no come te che non ritenne manco waterproof che poi secondo me mi sarebbe piaciuto un bordello forse no pro preso ancora trappola becci becoglione no monta magna vuole il nuovo ok allora aspetta dai e taru ti è piaciuta no e mamma mia ho visto proprio rosigone rosica eeeh che devo pure rosica di rosica perchè vuoi giocare adesso e mi hanno pure risciato capire che ha voglia che ci gioca a fortnite mamma mia tutto il giorno ci voglio giocare prima lo facevi però e ora no vi succede division e la verità vorresti giocare television eeeh ma rica io vedevo ricoprire a prima di livello sai quanto ci metto mica me voglio chiudere tutta una notte cioè massimo sul fortnite si eeeh spieghiamo dai per livello nostro ooooh na voglia cioè per colà se mo noi andammo con te i nemici ma anche i guardammo che morono eeeh 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 ma voglia non percuna i nemici no se gioferro scappa dice noi ci vede sente nota lanza eeeh 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 vede pure te sali dai o te ne in 15 ti sali un po' che poi ti dà una mossa porco disco no porco ma quello si starà a fa allora mi lasci qua ok per coglione e perchè non l'hanno di salire fanno ancora e oh coglione sto mangiando l'oliva scuola non mi vuoi sparare scuola scusa scusa me ne vado e in un terazzo si senta musica no 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 andiamo su television vedi leo che ti vuoi dice andiamo da darkzone 1 contro i livelli 9 e scuola che bella scuola di 4 scuola l'hai visto oh no no c'è pd ue mat scagliamo vedi che a un certo punto il livello 4 diventa rogue c'è inizia a sparare vedi che ce ne aveva uno tipo noi se giriamo vi senti no tipo quando te punzecchiano che non te fanno niente tutto dei giri come se nulla fosse gli spari in colpo il testo muore e lei vedi tipo 7 mila non one shot tipo vai ma che è sto punzecchia non no no oggi su oggi su 1 oggi non ha segnato a te aspetta uso con te le ho finito dentro da me ma c oh che 179 metri wow non mi rompe il cazzo zitto stare a modo ti visto ti giuro magari perdi con calma l'ho preso cederico ti ha scritto in 11 su fortnite davanti a uno ovviamente mangi il luogo di pasqua eh Alea manda solamente un altro invito e non gioco più a The Division mi hai chiuso su hai sprecato tempo della tua mi hai chiuso su butterfield te lo dico eh sprecare l'hai altro tempo te l'ho capito nevo che cazzo stai fatto a questo fortino ma mia questo gioco triste perché è triste c'è ormai c'è ormai youtube italia c'ha proprio marchiato sopra fortnite solo youtube italia se non miro no proprio youtube vedi devi sapere che in basso la fa ancora a sinistra vedi una scritta che c'è scritto fortnite marchio certificated esatto no ho perso leon oh c'è robbie vieni robbie vieni robbie anzi livello 1 incredibile fai paura mattia cioè sei troppo potente ah eh taru su questa modalità non puoi rianimare il tuo compagno in serio? mhm è la fine per me che cazzo raga è stato bello questo gioco su questa console è terrificante preferisco giocarlo su pc si e niente è scherzo e lo zoom qui dove ti sei venuto ero uno andiamo a corso con marchio a corso con marchio e niente stupendo io ti giuro prima che finisce sta modalità voglio vincere almeno una oh oh tronzi ragazzo no robbie eh robbie va bene 10 minuti tu scrivi e ti invitiamo qual è il problema che ha scritto ah 10 minuti ci sta vorrei prendere qualcosa io voglio la droga scusate mi è concesso prendere un oggetto me lo auguro eh lo è non c'è un'arma ah fra come lo uccidiamo non sì da quando in quale vale essere un ciechino fatti avano una vita ma perché se sei adesso con Mattias ma secondo te perché sei un 3 harder so so troppo forte ho esaurito le munizioni fugo scappo che devo fa niente finita per me è la fine rega sta modalità no questo gabba l'est facci di piccoli e lo è stato morivo la mattina è già morto no sono vivissimo non torna almeno adesso buono ricordare noi professionisti le trappole di merda non mi piace questa zona non mi piace ho tanti annuitari sono morti perchè erano munizioni cioè incredibile notare qui come su fortnite invece di inserire il singolo proiettile eserci un caricatore che sarebbe da 5 ma in realtà è da 1 aiuta realissimo realissimo ho 3 da mireo preso però ci sta la trappola fra all'è dietro da dietro da ruta ti taru una mano taru non taru non taru via ho una mano ma questi gunfight dov'è il trampolino e vabbè ragazzi con che paracadute signori con che paracadute bastardo quanto ingoglia tua madre mamma mia se ti ho preso ma what vabbè leonardo send leonardo send io sono ancora vivo a me diceva che eri morto non c'è si ma praticamente sono morto tra ho finito colpi non c'è manco io che inventarmi sto cito ho fatto uscire dai leonardo dentro bello fio di notte dai l'ho fatto uccidere va bene dai no però me la voglio combattere dai non c'è proiettivo dai ho visto qualcosa non è vero non è vero invece si si deve un 18 uno l'ho preso cos'è non è vero vado un attimo in là che pensi di levarmi e andare su dei ripi su facciamone un'altra però normale magari è normale che è più difficile per te stiazzi c'è un cimino allora mo ti spiego una cosa questa modalità non mi piace ora se tu sei d'accordo con me non me ne frega niente se poi ti metti pronto non mi piace non mi piace è vero è vero bello danno bello ho messo normale spiagge 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 snob è messo quello normale io qui faccio questa e me do le divisioni dai che palle darò ma anch'io me do mi sa bene le commensure division no no dove va non lo so giustamente quello al pompa i love that apple beh rega io me do belli no no spai 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 sono morto belli che fai io non so non so cosa fare mi dico coltello vado su bf con pietro In caso noi facciamo domani Dai, daro, fammo un po' dei doppi Incredibile, signori Ok, non esiste? Bello, Leo Eh, sì, sì, bello No, 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 no No, 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 no No, 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 no Atacca E niente, signori Vediamo gli altri, così ci facciamo pure un po' di obiettivi Un po' di kill Oh, sono tipo due giorni che non vincono, non va bene Ah, raga, io consiglio casa Sempre il top Oh, ci sono Tre, quattro persone Una va in casa Mi pare da su No, da su Questo non curerano E qua è uno, io c'è Non è un po' qua Grazie a tutti 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 Hanno tutti Grazie a 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 tutti Perché Grazie a tutti 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 Noo non ci Grazie a tutti 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 Ah dietro Grazie a tutti 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 Oh si è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti